Voglio entrare nella resistenza. La passione per i diritti civili. Ragazze, se non tirate fuori un po' di coraggio, le cose non cambieranno mai. Le battaglie di democrazia. Per le donne potete fare di più. Forse anche lei per questo partito può fare di più. Di una donna contro tutti gli stereotipi. I giornali sono tutti per l'amministro. Per onestà devo dirglielo, avremo tutti addosso. Questa è una storia di dimensioni tali, che ne usciamo o tutti vincenti o tutti perdenti. Tina Anselmi. Una vita per la democrazia. Martedì 25 aprile alle 21.30. Rai 1.